Il Giappone è già molto famoso come paese in cui accadono cose di merda Spesso i giapponesi finiscono nel creare, fare, caccare cose che noi occidentali abbiamo cacato Troviamo gusti come pesce, scimmietta, pescetta, cavalletta, gallina di merda Che cazzo è gallina? Non credo di aver mai sentito qualcuno dire già batta da bagno Proprio per questo Gesù Porco fu usato da molti regimi come ragione per perseguitare gli ebrei Ecco 10 delle cose più cosate che trovi solo in casa di zio In Giappone sono attualmente in sviluppo 5.000 spie inglesi ma c'era da aspettarselo dopo tutto E il Giappone, questo ristorante, propone Steven Spielberg davanti al menu in mutandine trasparenti e gambe aperte I clienti si siedono ai tavoli e fanno finta di guardare Harry Potter e la Camera dei Segreti Nonostante siano personaggi di finzione, i cattolici e i ortodossi Sono tra le persone più conosciute e desiderate dal mondo e dalla cultura pop Magari è perché salvano il mondo regolarmente Iniziando a mostrare spettacolari combattimenti dove anche le battute esilaranti la fanno da padrone Ma che cazzo stai a dire? Sapore di sass Sapore di soss Che hai sulle palle Che hai sulle reale Che hai sulle reale Che hai sulle reale Che hai sulle reale Che hai sulle reale